Confermo la venuta partenza di Marco dal Sudan. Dopo 361 giorni, finalmente l'incubo è finito. Ringrazio mio figlio per essere sopravvissuto a quei 75 terribili ed infernali giorni di detenzione. Ringrazio la famiglia per aver trovato in tempi brevi le risorse finanziarie per far cessare la detenzione. Il mio riconoscimento va ai dipendenti dell'azienda per aver portato avanti l'attività con grande senso di responsabilità pur in assenza del loro titolare. Il mio pensiero infine va a quelle 50.000 persone che hanno fatto sentire a Marco con manifestazioni sempre pacifiche l'affetto e la vicinanza dell'intera comunità veneziana. In questa vicenda devo purtroppo denunciare il totale fallimento dell'istituzione italiana che incomprensibilmente non ha voluto risolvere un palese ed evidente sequestro di persona a scopo di estorsione. Mi auguro quindi che la Farnesina abbia ora il pudore di non rilasciare retorici comunicati perché se Marco è uscito da quell'inferno lo deve solo ed esclusivamente a se stesso.